Come ci sei finito qui a Summerville? Anche se mia madre non lo dice, non abbiamo più un soldo. E l'unica cosa che ci rimane è questa macabra fattoria isolata che ci ha lasciato nostro nonno. Perché mi hai portato qui? Per passare il tempo. Che cos'è? Non lo so. Questa città non è in prossimità di placche tettoniche. Non ci sono faglie, né fratturazioni o impianti stereopotenti. Ma trema quotidianamente. Correte sotto il tavolo! Ricordate quell'estate che siamo morti sotto il tavolo? Ho trovato questo in salotto. Oh, è una copia perfetta! Una copia di cosa? Trappola per fantasmi. Sono trent'anni che non si vedono fantasmi. New York negli anni Ottanta era come The Walking Dead. Tuo padre non te ne ha mai parlato? Ho solo mia mamma. Mio nonno è morto. Mamma dice che siamo qui per riordinare le sue cianfrusaglie. Un momento. Chi sei tu? Chiama lo fato. Chiama la fortuna. Chiama lo karma. Ho la convinzione che tutto accade per un motivo. Andiamo, Bella. Bella. Ha un sedile per sparare? Ha un sedile per sparare?